Il 31 gennaio è noto come il compleanno della vodka russa. In questo giorno del 1865, infatti, il chimico Dmitry Mendeleff discusse la sua tesi di laurea, intitolata Sulla combinazione di acqua e alcol, dando origine al 40% della gradazione alcolica. Quest'ultima divenne così lo standard statale per la produzione di vodka, bevanda originaria della Polonia, ma uno dei simboli della Russia. All'inizio del XIX secolo, dice lo storico Pavel Syutkin, fece la sua comparsa a un idrometro, strumento utilizzato per mesurare la densità relativa dei liquidi, e lo zar Alessandro I decise di consolidare la qualità di quella che in seguito divenne la vodka. L'apparecchiatura era utilizzata per distillare miscele liquide, riscaldando per bollire e raffreddando per condensare il vapore. La Russia ora sta cercando di tornare alle sue radici per scoprire il passato, anche a livello gastronomico. Ecco perché possiamo vedere vodka tradizionali nei negozi di liquori e persino a casa i russi stanno provando a distillare le proprie bevande con spezie e succhi di frutta.